Guarda che fa le fusa. Siamo qui a Luca dove c'è la linguazza di Elisa che ha detto di no Napoleone, lui per dispetto ha occupato tutta l'Europa. Bisognava di dire Elisa, dagliela a Napoleone, sennò non lo occupa tutta l'Europa. Amore. Ti devo insegnare che anche te devi fare linguaggio quando ricevi delle avance. La mia risposta è no. Ma anche io sono troppo vida. Perché anche se sono diversamente abile sono vida lo stesso. Sì amore sei vida lo stesso. Tu riesci ad essere vida anche se sei tutta stupia perché t'hanno stupiata, ma sei vida lo stesso. Ma comunque qua è bellissimo, non vengono cani a disturbare. Alla solita bisogna sempre stare con 3.000 occhi, far zona, come diceva Claudio. Vedela! Fusa! Ti piace qua dove hai scelto il dado dalle mura? Qui c'è Umbra? Mi piace sì. Fusa plastica. Uhhh che schifo! C'è un insatto! Grazie a tutti!